Su crpiemonte.tv prosegue la messa in onda dei filmati provenienti dall'archivio storico dell'Istituto Luce con un documentario della serie Italia allo specchio Piemonte, regia di Dore Modesti. Il filmato di metà anni 60 è dedicato alla viabilità stradale e alla variazione della popolazione a Torino in seguito all'immigrazione. A Torino si cammina ancora bene in automobile, nel reticolo regolare delle sue vie larghe, purché non ci sia avventuri in quelle strette, troppo strette. Si cammina bene anche se ad ogni verde di semaforo riescono a passare soltanto dieci macchine. Si cammina bene fino a quando tutto ha un tratto, o si corre verso casa o si va verso il lavoro e c'è l'ansiosa corsa a timbrare tutti assieme il cartellino. Sono ore di dura prova per la pazienza, per la prudenza, fortemente tentate dallo stimolo, non sempre represso, a superare tutti per arrivare prima, per arrivare primi. Hanno i piemontesi le grandi altezze oltre le nuvole e sanno goderne. Fino all'ultimo raggio di sole, quando c'è, la vacanza la si gode, la si deve godere tutta.